Le macchine Nescafè Dolce Gusto hanno una tecnologia specificatamente studiata per interagire con le nostre capsule, così da garantire una straordinaria qualità in tazza. Le nostre macchine hanno un sofisticato sistema di controllo della temperatura, che assicura la perfetta temperatura del caffè. La pompa ad alta pressione, che arriva fino a 15 bar, garantisce una crema perfetta sul nostro espresso. Per i caffè lunghi o le bevande con latte la pressione richiesta è minore e le capsule regolano automaticamente la pressione per ogni bevanda. Il vassoio raccogli gocce regolabile è stato disegnato per permetterti di posizionarlo a piacere in base alla lunghezza della bevanda, così da ottenere il miglior caffè senza sporcare la cucina. L'intero sistema è stato disegnato in maniera tale che grazie al flusso diretto dalla capsula alla tazza ci sia una preparazione pulita senza alcuna contaminazione tra le bevande. E ora è il momento di un caffè. Nescafè Dolce Gusto. Coffee is not just black.